La lotta antibolshevica che in difesa della civiltà il fascismo proclamò per primo, riunisce oggi accanto alle potenze dell'asse tutti i popoli che meritano il nome di europei. La Slovacchia afferma con un rito solenne la sua partecipazione alla guerra contro i nemici dell'ordine e dell'umanità. Monsignor Tiso, presidente della Repubblica Slovacca, poche ore prima della dichiarazione di guerra, benedice le truppe, incitandole alla nuova crociata. Le bandiere sono recate accanto al podio del presidente. Monsignor Tiso pronuncia la formula del giuramento, le truppe rispondono in coro. Monsignor Tiso, presidente della Repubblica Slovacca, a tutti i popoli del giuramento. Monsignor Tiso, presidente della Repubblica Slovacca, che ci siamo serviti a tutti i popoli. Monsignor Tiso, presidente della Repubblica Slovacca, Monsignor Tiso, presidente della Repubblica Slovacca, Monsignor Tiso, presidente della Repubblica Slovacca, Monsignor Tiso. Monsignor Tiso, presidente della Repubblica Slovacca, Grazie.